big mat ed il tutto dal 1981 tutto per costruire e ristrutturare casa eleganza qualità e cura dei dettagli per l'uomo la donna e per la cerimonia scegli tosti abbigliamento l'abito giusto per ogni occasione a a Grazie a tutti. Eccoci la rana nel pozzo, bentornati a un nuovo appuntamento, grazie per gli ascolti delle puntate precedenti, ma grazie anche per le numerose visualizzazioni di tutto il palinzesto che è partito alla grande di Rieti Live TV. Ospite oggi qui nei nostri studi Matteo Carrozzoni, come stai? Ci diamo del tu perché per chi non lo sapesse è stato un nostro collega Carrozzoni. Sì, abbiamo anche collaborato. Buongiorno a tutti, buonasera. Buonasera, buonasera, buongiorno, come stai? Bene, bene, tranquillo. Non ci siamo dimenticati, è stato un caso ma non ci siamo dimenticati, buon compleanno. Grazie. Oggi è il tuo compleanno. Sì, anche se cominciano a essere tanti. Tanti, tanti e va bene. Glissiamo. Glissiamo, va bene. Allora, buon compleanno e partiamo subito così. Non saremo buoni perché è il tuo compleanno, quindi... Lo immagino. Allora, capogruppo Fratelli d'Italia in Consiglio Comunale. Sì. Rieletto un'altra volta? Recidivo. Recidivo. Come stai vivendo questo secondo mandato? Ma sicuramente con maggiore consapevolezza, un po' meno pathos perché comunque cinque anni di esperienza con il sindaco Cicchetti sono una buona scuola. Sono stato una buona scuola e il ruolo di capogruppo mi è stato riconfermato in virtù anche proprio dell'esperienza venendo proprio dai primi tempi della nascita di Fratelli d'Italia. Sono entrato in Fratelli d'Italia nel 2013, quando era ancora una realtà embrionale e ho dato fiducia a questo progetto insieme all'amico Daniele. Ci sta dando ragione, quindi continuiamo a lavorare seriamente per amministrare la nostra città. Adesso abbiamo questa occasione proprio in prima persona, come partito intendo. Guardi con un occhio puntato anche alle evoluzioni che abbiamo sia a livello nazionale che a livello regionale prossimamente. Che cosa succederà prossimamente? Ma prossimamente? Governo, governo. Governo? Chi sarà il premier? No, noi, io personalmente insomma mi auspico che si tratti di Rameloni perché insomma è una persona alla quale ho dato fiducia da quasi una decina d'anni, della quale ho potuto seguire da vicino il percorso di crescita e alla quale continuo a dare la mia fiducia perché insomma a differenza di tante chiacchiere, perché poi ormai con il web si vive costantemente di chiacchiere che assurgono a grandi verità, ho potuto constatare che dietro il percorso di Fratelli d'Italia e in primis Giorgia Meloni c'è tanta preparazione e tanto studio, non si va mai così all'avventura, quindi ho fiducia fondamentalmente per questo. Quindi aspettiamo che si formi la squadra di governo, che si inizino le prime, si decidano i ministeri, i sottosegretariati e poi ecco magari dopo cominciamo a protestare, a fare manifestazioni di protesta dopo che si è formato il governo, perché protestare contro un governo che ancora non c'è, è un po', lascia un po'. È una cosa curiosa, allora te lo chiedo proprio, ho visto che il giornalismo è stato un po' la tua casa, è una tua passione, no? In effetti la stampa non è che sia proprio così vicina, tra virgolette, mi sembra un po' ostile, è possibile? Va bene, ma... Un eventuale governo Meloni che non credo ci sia un problema, insomma. La destra sociale è sempre stata un po' ghettizzata nella storia della Repubblica, poi... Però oggi... Sì, però ecco, c'è da dire che c'è tutto un establishment legato alle dinamiche dei media, del sottogoverno che è costruito da 80 anni di governi di prima democristiano-socialisti e poi comunque di estrazione di sinistra, quindi penso che sia fisiologico che si sia costruita una sorta di blocco nei confronti di quella che è una nuova... cioè una diversa visione delle cose... Di sinistra, la stampa è un po' di sinistra. La stampa è un po' di sinistra, sì. Poi, insomma, ecco, questo... Fortunatamente... Non tutta, però. Non tutta, però. Buona parte. Buona parte. Questo continuo tentativo di demonizzazione dell'avversario politico sembra che finalmente non funzioni più perché la gente che vota poi comincia a ragionare di testa propria e dice ma, insomma, tutti questi allarmi, questi pericoli qua si parla di questioni concrete, si parla di bollette, si parla di tetto ai costi, si parla di lavoro, di welfare, quindi... Cioè, diamo una chance, insomma, no? Aspettiamo. Anche perché, insomma, stiamo nell'ambito del... Se c'è da criticare, sì. Siamo nell'ambito del costituzionale, sono partiti che amministrano regioni, comuni, province, da anni, quindi, insomma, non mi sembra che ci siano state, non lo so, evidenze di liberalità. Assolutamente. Assolutamente. Io, per esempio, sono molto curioso perché vedere all'opera e al governo un partito che è sempre stato all'opposizione mi dà questa curiosità, quindi... Diciamo che, sì, dovrebbe essere l'ABC della democrazia. Sì, no, 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 io parlo di... L'alternanza, sì. Sì, quello ci mancherebbe, però l'attitudine, no? A governare e a stare alla posizione... Sicuramente non sarà un passaggio così facile, perché governare poi impone... Certo, ci vuole anche esperienza, essere un po' smaliziati, quindi... Vediamo. Ci vorrà anche una fase iniziale, fisiologica, per cui entrare nei meccanismi, però... Sui social oggi, perché tu sei molto attivo sui social, ultimamente un po' meno? Un po' meno, sì. Un po' meno, però... Mi piace fare le foto, io sono appassionato di fotografia, quindi mi piace fare le foto con il telefonino. Spondi un portone aperto, ovviamente. E con i tutorial come va, Matteo? Come si sta intanto su questo sgabbello, come è comodo? Devo fare un tutorial per come ci siete sugli sgabbelli. Sì, si sta abbastanza comodi, tanto ci stiamo... No, immagino che ti riferisci al video con il Goliardi con il Cabagnetto. No, 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 non mi riferivo a quello. Dimmi un po'. Il parco dello sport. Sì, il parco dello sport, devo dire che è stata un'operazione importante, perché si era qualificata un'area che da decenni era in uno stato di degrado importante. Era una sorta di giungla in città e è stata realizzata veramente una bella opera con i finanziamenti presi dalle giunte precedenti. E tra le varie opere, il parco dello skateboard, i campi di basket, c'erano anche queste panchine a forma di chaise longue, come si possono definire, che sono state prese d'assalto dai critici di Facebook perché sembravano essere degli strumenti di tortura, invece che delle panchine comode, che poi chiunque ci sia seduto ha constatato la comodità. Sono comode. E quindi niente, siccome stava diventando un po' antipatica la situazione, ho scelto di buttarla sull'ironia, quindi ho simulato un tutorial per imparare a sedersi su queste panchine, che ha riscosso un dischietto successo. Molto successo, molto successo. Chiederemo anche noi qui a D-Life, all'azienda che le ha fornite, insomma, se ce n'è una anche per noi. Perchè no? Puoi fare da tramite. Sì. La mettiamo qui fuori. Ci informiamo, va benissimo. Bene. Senti, mi hai detto che con Sinibaldi, insomma, c'è una lunga amicizia, non solo politica, ma anche personale, e non ti ha dato nessun incarico, però. Beh, no. Oddio, uno te l'ha dato, eh. Di che incarico parliamo? Beh, sempre guardando i social, insomma, sei il padrino del figlio, quindi, voglio dire, questo è già un incarico. È un incarico che mi ha inorgoglito, sicuramente, perché, insomma… Ma che era un contentino, no? No, 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 scherziamo, scherziamo, scherziamo. Siamo molto legati da più di dieci anni, non solo politicamente parlando, insomma, abbiamo un bel rapporto di amicizia, con lui, con Marta, quindi essere stato scelto come il padrino di Manfredi significa che, insomma, vedo… Quasi più di un assessorato. Sono un riferimento nell'ambito della loro famiglia, questo mi fa enormemente piacere. L'assessorato comporta delle dinamiche un po' più complesse, insomma, che non è legate al ritorno elettorale, a tante cose, ma non avevo neanche questa esigenza, fondamentalmente. Hai dribblato bene. Volevo sapere una cosa, qual è il futuro, però, adesso parliamo seriamente, il futuro di Rieti? Perché, hai detto prima, cinque anni con Cicchetti sono stati un po' la palestra a questa nuova generazione, chiamiamola così, di amministratori, sempre di quell'area politica lì. Quindi, che futuro c'è effettivamente per Rieti? Diciamo che siamo fiduciosi perché comunque è un periodo in cui tira un buon vento, nel senso che le amministrazioni, gli enti locali sono stati per anni in condizioni difficili, sia a livello economico che di possibilità di gestione proprio del territorio per pochissimi fondi, tagli continui. Quindi, la maggior parte dei comuni in Italia sono finiti in predissesto o in dissesto, quindi, insomma, abbiamo attraversato periodi difficili. Adesso, fortunatamente, grazie a una serie di finanziamenti della Presidenza del Consiglio, europei, adesso i fondi del PNRR, aprono scenari diversi. Quindi, sarà fondamentale gestire questi percorsi perché c'è veramente la possibilità di trasformare questa città. Ci sono finanziamenti per riqualificare intere aree, quartieri, fare realizzazioni importanti. Sarà riqualificato con le diverse decine di milioni che già abbiamo intercettato. Si dice intercettato, ogni tanto vengo criticato perché uso questo termine, ma i fondi vengono intercettati. Si accettati. Decine di milioni di euro per la riqualificazione del centro storico, di diversi quartieri. Città Giardino ha un progetto per essere riqualificata completamente. Quindi, insomma, nei prossimi anni vedremo la città cambiare. Ci sarà, sono già partite le progettazioni del Parco della Musica che verrà realizzato nella zona del Foro Buario. Quindi una realtà vera che un po' potrà supplire alla carenza di posti del Teatro Flavio Vespasiano, che purtroppo è un teatro antico e quindi per questioni di sicurezza ha visto ridurre di molto la capienza. Quindi avremo un teatro che potrà ospitare molte più persone. Finalmente potremo ristrutturare il mercato coperto, che sarà una bellissima opera in pieno centro storico. Quindi, insomma, di progetti ce ne sono tanti. Vedremo cambiare la città. Sei ottimista. Sono ottimista e spero che questo porti insieme anche ai lavori che si stanno facendo sulla salaria all'enorme investimento di progettualità che è stato fatto sulla ferrovia. Perché della ferrovia si parla da decenni, ma non era mai stato fatto un investimento importante come i milioni di euro che sono stati spesi per la progettazione. Noi siamo stati a una riunione in Ascoli, c'erano parlamentari, senatori, presidenti di regione, assessori regionali di tutte le aree interessate da questo progetto e c'è un progetto di diversi milioni di euro. Sulla carta. Sulla carta, ma per la progettazione. Il terreno atriatico. Io credo che una volta investiti tutti questi milioni per una progettazione, insomma, un bel passo avanti si sia fatto. Sì, io non sono di questo avviso. Questa ferrovia non si farà. Non dico mai, ma non si farà. Ma non lo so perché... Non si farà. Non aggiungo altri aspetti temporali. Tanti lavori importanti nelle aree un po' più a nord sono stati fatti, nelle Marche. Adesso c'è una superstrada importantissima che l'attraversa tutta, ha facilitato, ha tirato un po' fuori dall'isolamento tutte le aree interne del Fabrianese, Mario Camerinese. E quindi, insomma, anche Rieti e le nostre aree interne hanno... Le Marche viaggiano però. Hanno bisogno. Speriamo che cominci a viaggiare pure la Regione Lazio. Speriamo, speriamo. Lavori sulla salaria, sì, ne abbiamo visti, sono partiti, stanno quasi per essere completati, ma non cambiano sostanzialmente il risultato finale. Migliorano sicuramente. Speriamo che anche le infrastrutture servano ad invogliare un po' investitori, con cui stiamo parlando, a investire sul territorio. C'è una curiosità. Non so se hai sentito la polemica, ovviamente, sicuramente sì, degli stipendi. L'ultima puntata della Rana c'era Bigliocchi che diceva, dice sì, è una legge nazionale fatta a gennaio dal governo Draghi, però molti hanno deciso di non prendere tutti questi aumenti e lasciarli a destinazione per le persone meno abbienti, eccetera. Che ne pensi? Ma questo noi l'attenzione sul sociale ce l'abbiamo da sempre. Abbiamo rinunciato agli emolumenti dei consigli comunali della scorsa consigliatura per devolverli ai servizi sociali. Io adesso credo che questo adeguamento sia stato fatto con un fine, insomma, quello di forse riportare la politica a una dignità. Allora, oggettivamente oggi impegnarsi politicamente e a livello amministrativo in un capoluogo come Rieti, ma anche in tanti altri comuni, significa rinunciare completamente, in gran parte, alla famiglia, al lavoro. Io stesso prendo molto tempo della mia vita senza avere emolumenti da destinare all'amministrazione. Quindi, insomma, io credo che se un cittadino vuole una classe di amministratori presente che non debba rubare mezza giornata all'amministrazione perché deve comunque andare a lavorare o chiudere, io credo che sia giusto che gli amministratori ricevano uno stipendio che gli permetta di concentrarsi serenamente sul lavoro che stanno facendo. Poi si tratta di una legge nazionale che è stata fatta dall'ultimo governo con la precedente finanziaria. C'è qualcuno che ha rinunciato, si può fare, non si può fare, io non mi sono addentrato in queste dinamiche, quindi non lo so. Però, insomma, credo che, visto che non si va a toccare le casse comunali, perché comunque sono fondi statali, io penso che, insomma, sia una polemica abbastanza sterile. Beh, sempre nostri, eh. Anche perché bisogna capire una cosa, che anche quando si tratta di finanziamenti di altre cose, leggevo su Facebook ieri, si parlava di questi due milioni di euro in più che sono stati intercettati per la rigenerazione urbana e la qualità dell'abitare che verranno ridistribuiti sulla città. E qualcuno diceva, ah, con questi soldi si poteva fare, con questi sarebbe dovuto. Ci sono dei finanziamenti che sono vincolati per certe cose. O si usano per quello, o ci si rinuncia. Quindi, se anche questi finanziamenti sono finalizzati agli monumenti degli amministratori e o si usano o tornano indietro, ci si potrebbe fare. Non credo che un sindaco possa decidere che gli monumenti statali per gli amministratori possano essere usati sui servizi sociali. Ci sono delle regole in questo mondo. Quanto diceva Bigliocchia, quanto apprendiamo qualcuno lo ha fatto. Nel senso, dico anche qui la mia brevemente, anche io sono d'accordo con te, che il sindaco e gli assessori debbano essere indennizzati in maniera più ampia. Il rapporto, c'è una percentuale, il rapporto all'impegno, alla graposità. Vedendo l'ultimo adeguamento, l'ho trovato abbastanza consistente, ma io sono sicuro che sia Sinibaldi che i suoi assessori qualche cosina in qualche maniera lo lasceranno. Io immagino sicuramente, questa non mi sembra che sia stata finalizzata, però, se questa è una scelta dell'illuminato governo Draghi, probabilmente ha un senso, visto che rincenzano tutti. Draghi, ti piace sia o no? Non tantissimo, perché dovrebbe valare più agli italiani che ad altre cose. molto bene, c'è una telefonata, passo il nostro smartphone, prendiamo via, è di vecchia generazione però. Pronto. Sento un po' male, sento molto lontano. È colpa sua. Sì. Sì. Certo. Va bene. È stato un piacere. Grazie, grazie. Sì, spero di incontrarla. A presto. Salve, salve. Non c'era campo? Eh? Non c'era. Sì, prendeva un po' male, forse era l'ammissione da qualche parte. Chi era? Era il direttore della protezione civile, Curcio, e mi chiedeva... Curcio? Ha telefonato Curcio qui? Sì, no, mi chiedeva informazioni su Rieti, perché, insomma, zona sismica, rischio idrogeologico, queste cose... Ah, ho capito, ho capito, ho capito. E che diceva Curcio? Il capo del Dipartimento della Protezione Civile, ricordiamo che adesso da poco è ritornato. Sì, mi chiedeva in che stato di salute era la protezione civile del Comune di Rieti, ho detto che, insomma, siccome la seguo è una cosa di mio interesse, che è in crescita, sta in fase di approvazione attualmente anche un aggiornamento del piano di protezione civile, che si stanno cercando nuovi mezzi per potenziare, quindi, insomma, noi viviamo in un territorio che, non mi stanco mai di ricordare, ha delle criticità, è un territorio sismico, è un territorio che ha comunque dei rischi idrogeologici, ce l'hanno dimostrato i gestori delle diche qualche anno fa. Assolutamente, sì. E quindi, insomma, ecco, molte cose si stanno evolvendo anche in questo senso. Si sono appena conclusi degli studi importanti finanziati dal commissario straordinario alla ricostruzione sulle faglie attive e capaci, che coinvolgono anche rieti di città, e quindi oggi abbiamo un... sono in fase di validazione in questi giorni, quindi spero saranno pubblicati a breve, in modo da poter essere visionati, in cui si fa veramente molta più luce su quella che è la situazione sismica della città, che è importante, e a breve, invece, per quanto riguarda la protezione civile, ci sarà un tavolo con dei funzionari della regione per capire quali sono le criticità a livello di frane, quindi di rischio idrogeologico in genere, preferisco dire geo-idrologico, perché idrogeologico interessa più le falde acquifere, geo-idrologico è un po' più la morfologia, quindi di fare un po' il punto della situazione su quelle che sono le criticità, in modo da non farsi lasciare, da non farsi trovare sorpresi, nel caso di queste che vengono definite bombe d'acqua, per esempio, che creano molti danni, ma insomma abbiamo dei eventi atmosferici importanti ultimamente. Sì, sappiamo di cosa si parla. E quindi c'è attenzione per la protezione civile? C'è attenzione. Ce l'abbiamo o no? Sì, 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 ce l'abbiamo una protezione civile. Attrezzati, manca qualche mezzo. Ci abbiamo gruppi... Personali ce n'è molto, credo, no? Mi pare anche abbastanza qualificato. C'è molta sensibilità e quindi non è difficile neanche trovare il volontariato. Poi insomma Rieti, da questo punto di vista, ha dimostrato nei vari eventi grande partecipazione, ricordiamo sia l'Aquila che la Matrice, le centinaia, migliaia di persone scese in piazza a portare aiuti, a guidare furgoni per le aree colpite. Quindi insomma siamo da questo punto di vista... È una bella realtà. Bene, bene. Mi era venuto in mente prima, quando parlavamo del parco dello sport, no? Ma come sono i rapporti con Donati e con Emili? Una curiosità. Con Donati e con Emili? Allora, con Roberto siamo... abbiamo nell'ambito della scorsa consigliatura abbiamo instaurato un bel rapporto d'amicizia, quindi ci siamo visti anche lo scorso fine settimana. Roberto è un amico, una bravissima persona, certo purtroppo le fasi elettorali spesso e volentieri non arrivano dove si vorrebbe, però credo che insomma Roberto sia... probabilmente dovrà pazientare un po', ma non credo che sicuramente la politica cittadina lo recupererà, lo recupererà perché comunque è una persona valida. Con Emili abbiamo avuto modo di interfacciarci durante sempre la scorsa consigliatura, lui era assessore all'urbanistia dei lavori pubblici, ero presidente della commissione. Sì, qualche volta abbiamo avuto anche dei contrasti, ma fa parte del fatto che ci si mette passione e vemenza in quello che si fa per la città. Diciamo tra virgolette contrasti politici, no? Sì. Possono causare anche contrasti personali? Ma io ritengo che persone intelligenti riescano a discernere tra la politica e il personale. Con Antonio abbiamo una conoscenza decennale, quindi abbiamo un rapporto di tranquilla convivenza. Sì, salutiamo tutti. Donati sarei curioso di invitarlo, adesso ci pensiamo. Beh, anzi, inviteremo Donati alla Rana del Pozzo, così facciamo anche un po' sfogare. No, no, tra virgolette, tra virgolette. Purtroppo le dinamiche legate a poi il suo... Ci sta, ci sta, ci sta. La sua lista civica non era più la stessa di cinque anni fa, quindi è stata un po' in difficoltà. Ma non tanto per le due persone, quanto perché mancava un po' un... Comunque li salutiamo e li aspettiamo. Adesso sai che succede? Che dal Pozzo ci trasferiamo sulla torre. Un tempo nella torre c'erano le principesse intrappolate, arrivavano i cavalieri a salvare. Adesso no, adesso no, adesso stiamo sulla torre comunale e inderogabilmente devi buttare giù uno dei due nomi, delle due cose che ti dirò. Ok. E ovviamente che nessuno si faccia male, non si farà male nessuno. Ci sarà la protezione civile. Protezione civile, c'è Curcio che ci ha chiamato poco fa. Sei pronto? Sì. Bene. Claudia Chiarinelli, Giovanni Rositani. Devo scegliere tra loro due. Devi buttarne uno giù. Questa è cattivissima. Allora, Giovanni è un amico con cui ho condiviso anche bei momenti. Non dimenticherò mai quando siamo andati a spalare la neve sui tetti delle stalle dell'Amatriciano, che c'era questo rischio crolli. Li abbiamo condiviso, veniamo da un percorso, anche se vediamo da un percorso politico molto affine, quindi ci ritroviamo in tante cose e ci stiamo anche vedendo spesso ultimamente. Saludiamo, salutiamo, devi buttarne uno giù. Il problema è che Claudia è quasi una sorella, perché ci sono stato cinque anni compagno di banco. Ecco, ecco. Quindi, Giovanni, attrezzati, io ti voglio bene, so che sarai sicuramente, sei una persona che dà le mille possibilità, ti voglio bene, ma cerca di trovare il modo di sopravvivere a questo. Quindi? Devo buttare Giovanni, ma solo perché Claudia è veramente una sorella. Poi è una donna, insomma, io sono, oggi c'è la parità, ma io sono vecchio a scuola. Old style, sei old style. Sono cavaliere, come dicevo prima. Benissimo, benissimo. Sinibaldi e il rugby. Sinibaldi e il rugby. Beh, il rugby mi ha dato tanto e mi ha anche tolto. Quindi? Mi ci sono fatto anche parecchio male. Però, ecco, sì, sicuramente è stata una grande scuola di vita. Chi butti? Però riguarda il passato. Purtroppo il rugby adesso naviga pure in cattività. Cioè, mi sembra che sia un po' in confusione a livello societario. Però, ecco, fondamentalmente non perché rinneghi, ma perché allo stato attuale il rugby della mia vita riguarda il passato. Daniele, per me, è quello che riguarda il futuro della città. Quindi, butto il rugby, tanto se sono abituati a cadere, si sanno rialzare. Ultima. Terminillo e Giorgia Meloni. Però, questa è strana, insomma. È strana, sì. Cioè, un luogo con una persona come... Un po' in generale siamo strani noi qui. Sì. Un luogo e una persona. Eh sì. Le persone vanno e vengono, i luoghi rimangono. Per cui? Eh, Terminillo rimarrà sempre la nostra montagna. Un domani Giorgia Meloni può cedere lo scettro anche a qualcun altro che si occupi comunque sempre della nostra montagna. Quindi la nostra montagna rimane e noi saremo con tutti gli organi di partito sotto la torre a recuperare Giorgia, che però purtroppo la devo far cadere dalla torre. Molto bene, molto bene. Ci sono notizie in queste risposte. Ci sembra una cosa strana, è un po' così, però ci sono notizie. Beh, ma la politica non deve essere finalizzata solo a una persona, a un leader. I leader sono importanti, ma sono le idee che contano. Assolutamente. Allora, siamo in chiusura. Grazie Matteo. Grazie a voi per l'opportunità. Carrozzoni, in bocca al lupo, per il futuro, per tutto. E noi siamo sempre qui. È stata una bella chiacchierata, come sempre. Vi do appuntamento a giovedì prossimo, non prima di ricordarvi. Riedilights.com, H24 a vostra disposizione. Il nostro Free Press, lo trovate nelle ticole e nei punti di interesse. Terni Life, Italia Life 24, il caffè, eccetera, eccetera. Tutto gratuito. Un saluto. Big Mat è il tutto. Dal 1981, tutto per costruire e ristrutturare casa. Eleganza, qualità e cura dei dettagli. Per l'uomo, la donna e per la cerimonia. Scegli Tosti e Abbigliamento. L'abito giusto per ogni occasione. Sei alla ricerca di un mezzo efficace ed economico per farti conoscere? Riedilights fa quello che fa per te. A settembre torna il caffè, il supplemento pubblicitario di Riedilights Free Press. Lo trovi ogni mese nelle edicole e nei punti di interesse insieme a Riedilights Free Press. Storie, interviste e promozioni imperdibili delle nostre aziende amiche. Raccontaci la storia della tua azienda. Fai conoscere i tuoi prodotti o i servizi che offri. Promuovi il tuo brand e amplia la tua clientela. Per la tua attività, scegli il meglio, il caffè, tutta la visibilità che vuoi al costo di un caffè. Contatta il nostro ufficio marketing per conoscere i dettagli. Contattare i tuoi prodotti o i servizi che offri.